Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Deccallisto Protocol e in questo ottavo capitolo andremo a trovare tutti i collezionabili. Siamo proprio all'inizio, quindi lì c'è il negozio, diciamo, e noi andiamo di qua. Una volta fatta fuori la bestia, ci prendiamo il fusibile e torniamo indietro. Quindi lo inseriamo qui. E appena arriviamo qui, andiamo qui sulla sinistra, maledetto, mi spaventa sempre. E qua giù prendiamo il nostro primo collezionabile del capitolo 8. Esattamente in questo punto, dove ci sarà necessità di inserire un secondo fusibile, andiamo a prendere il nostro secondo collezionabile, credo, secondo o terzo, ma comunque... Quando arriviamo a questo punto, quindi andiamo di qua. Lì c'è una grata. Ed entriamo qui. Qui vi velocizzo perché è veramente lunga. Una volta arrivati giù... Fate attenzione a questo nemico e fatelo fuori. Salite qui sulle scale. Che anzia signora, qui ci sarà l'altro collezionabile. Il prossimo collezionabile si troverà esattamente in questa zona, subito dopo aver affrontato lo stronzone con due teste per l'ennesima volta. Quindi da questa stanza, che è una delle stanze iniziali se vi ricordate, andiamo di qua. E prendiamo questa porta. Niente, non esistono più casse senza Mimic, maledetti infami. Niente, in questa zona, ecco, sparso di casse con i Mimic e... Evitate. Di qua, arrivati qui, usciamo da questa porta. E qui ci sarà il collezionabile. Questo è il penultimo. Non so perché mi abbia sbloccato il trofeo, ma questo è il penultimo. Ne troveremo un altro. Ora vi faccio vedere dove si trova. L'ultimo collezionabile si troverà dopo che ci siamo ricongiunti con Dani. E prenderemo l'ascensore qui. Arrivati qui. Arriviamo qui in fondo. E prendiamo l'ultimo collezionabile. E così li abbiamo presi tutti. Ora a me il trofeo l'ha già sbloccato. Prima, come avete visto. Ma vabbè, dettagli. Detto questo, giovani, per questa video guida è tutto. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere tutte le prossime uscite che arriveranno sul canale. Lasciate un like per sostenere sia la serie, sia il progetto che stiamo portando insieme a voi. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo video. Vi ringrazio per aver guardato il video.